E' arrivato il momento di svappare, svappome! Oggi non c'è stato proprio l'approccio giusto, la gestione della partita che è stata sbagliata perché entrare in campo così contro questa gente non va bene. Poi abbiamo preso il primo gol che è un errore, se non due errori nostri, però a quel punto lì, sbagliando ancora una volta, abbiamo mollato un pochettino la partita perché 1-0 eravamo ancora in partita, c'era ancora tutto in palio. Invece la squadra è stata un po' scosta dal gol preso, poi abbiamo pagato subito, abbiamo preso il secondo e a quel punto lì è finita la partita. No, penso che oggi non possiamo parlare di singoli perché è stata una prestazione di livello fatta da tutti quanti e soprattutto è stata la risposta che mi aspettavo dopo il mezzo passo falso fatto in casa con il Sant'Agnello. E' la dimostrazione che se siamo una squadra che sta sempre concentrata, che è cattiva come sono gli avversari, possiamo fare la nostra degna partita su qualsiasi campo perché se siamo venuti qui a Cervinara e io ritengo il Cervinara una squadra fortissima, attrezzata come le altre per arrivare fino alla fine in alto e fare questo tipo di partita lo dobbiamo fare sempre. In campionato stiamo mancando un po' di continuità e questo ci fa essere attardati in classifica, ma questa è la strada da perseguire, quella di essere concentrati per tutti i 90 minuti e di non uscire mai dalla partita prima che l'albitro fischia per tre volte al novantesimo. Oggi bravi tutti, bravi tutti perché hanno giocato con testa, con cuore e anche con qualità perché abbiamo visto, credo, delle belle giocate. È stata una bella partita, abbiamo preso il primo gol, poi ci siamo un po' disuniti, abbiamo preso il secondo gol e lì c'è un errore nel primo gol, quello di disunirsi. Però non fa niente, abbiamo giocato con il sorrende, va bene così. La classe arbitrale non è che possiamo discuterne oggi, è una questione che va avanti da tempo. Non è la prima partita che ci penalizzano, loro sono tutelati al mille per mille. Oggi Cervinara ha messo in cantiere 11 o 10 o 11 a Moniziu per una partita che non credo sia così difficile. Quindi va bene così e adesso pensiamo al campionato ed è stata una bella esperienza. Grazie.